Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le meteo di TV6. Nello corso di questo mercoledì 4 maggio avremo ancora la persistenza di aria instabile più fresca alle alte quote che va a determinare lo sviluppo di instabilità pomeridiana ovvero acquazioni e temporali soprattutto sui monti, sulle colline sia al nord che al centro Italia. Leggermente più stabile e variabile sulle coste specie al sud delle isole maggiori dove prepara il sole. In Abruzzo una giornata ancora da due volti al mattino cieli poco nuvolosi per larghi tratti sereni mentre tra pomeriggio e le prime ore della sera si svilupperanno acquazioni e temporali nelle aree più interne quindi in montagna. Qualche sconfinamento anche sulle colline soprattutto nel Terramano e i settori centrali della regione cieli più sereni o poco nuvolosi lungo le coste ma non escludiamo l'arrivo nel tardo pomeriggio di qualche isolato piovasco. Le temperature come vedete stazionarie e le massime non oltre i 19-20 gradi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Grazie a tutti.